Questa sera la festa del donatore organizzata dall'Avis di Foggia in Piazza Umberto Giordano. Innanzitutto dobbiamo dire che è cambiata la location? Sì, sì, purtroppo per problemi tecnici non siamo più in Piazza Cesare Battisti, ma siamo in Piazza Umberto Giordano. A partire dalle 19 fino alle 23 abbiamo diversi eventi. Inizierà la clown therapy con dei giochi per i bambini, trucca bimbi, ballon art, trampolieri. Dopodiché si esibiranno i trilogi, una band foggiana di giovani ragazzi foggiani. Poi ci sarà la favola dance che farà dei balletti e alle 21, dopo il saluto del sindaco, ci sarà la musicomio band. E sono i testimonial della nuova campagna di comunicazione che quando partirà? La campagna di comunicazione è pronta. Il musicomio, sotto lo slogan Lasciatemi Donare, hanno riadattato la canzone, la famosa sigla di Emi Gratis di Pio Amedeo. Lo spot è pronto, lo vedrete questa sera, mentre i manifesti verranno affissi dal 16 giugno, tramite i 6x3, i 70 cento. Grazie. 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 Grazie.